bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo delle notizie incredibili sui veicoli abbiamo la data di uscita abbiamo tutte le informazioni abbiamo tutte le novità per sapere cosa ci aspetterà vi dirò quando vi dirò quando nel video di oggi parleremo anche della skin galaxy femmina e la vedremo in game e anche tanti altre informazioni prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del grande argomento principale di oggi che sono i veicoli e tutto comincia da questa immagine perché non sapesse bene quello che è successo circa 20 ore fa un impiegato di epi games che è riuscito a non farsi scoprire quindi a rimanere in forma anonima ha divulgato delle informazioni davvero incredibili per quanto riguarda i veicoli e l'evento di aquaman tuttora il ceo di epi games e ovviamente chi di competenza sta cercando di capire chi abbia fatto trapelare queste informazioni ma è riuscito appunto a rimanere anonimo e la prima immagine ragazzi è proprio questa che come vedete ci mostra jules sopra una delle macchine di default di fortnite e dall'altra parte la skin non mi ricordo mai il nome fade potrebbe essere che guida invece una berlina classica ma cerchiamo di capire un attimo cosa ci dovremmo aspettare dall'arrivo di queste macchine innanzitutto ragazzi abbiamo delle nuove informazioni da quando saranno disponibili per ogni partita ci sarà la possibilità che vengano spawnate generate da uno a dieci veicoli non guardate la scritta a zero perché è sbagliata e sotto qua invece riusciamo a vedere le stringhe di codice appunto che ci confermano come vedete minimo minimum vehicles to spawn 1 max vehicles to spawn 10 quindi ragazzi almeno un veicolo sarà sempre garantito in mappa e pensate che un veicolo in una mappa così grande è davvero pochissimo ma sappiamo anche che arriverà una ltm totalmente dedicata ai veicoli e sarà proprio una grande corsa una specie di death race se dovessimo dire un pochettino quello che ci sembra vi ricordo che in questa ltm sarà possibile guidare anche dei veicoli che probabilmente invece nel battle royale non potremmo appunto utilizzare come vedete la ltm si chiamerà chrome e sarà appunto una gara questo è il logo che vi sto facendo vedere abbiamo delle descrizioni race to the finish e get to the finish line however you can molto interessante cerca di raggiungere la linea del traguardo in qualsiasi modo questo appunto ci lascia intendere che i veicoli non si guideranno esclusivamente ma quasi certamente si potrà sparare mentre si guida un veicolo senza bisogno di fermarsi e magari ci sarà qualcosa altro che ancora non sappiamo come vediamo appunto sappiamo però che nella chrome race ci saranno quattro nuovi veicoli non menzionati nel battle royale la police car la macchina della polizia rally car la macchina da rally la sports car e il taxi cab quindi quattro nuovi veicoli dei quali appunto non si sanno le caratteristiche cosa diversa invece per quelli normali adesso vi faccio vedere abbiamo delle altre stringhe dedicate e praticamente sono quelle che i consigli no i tips che ci verranno detti nel periodo di caricamento race to the finish get to the finish line however you can abbiamo già vista no points for the second place non ci sono posti non sono punti per il secondo posto quindi o vinci o vince so faster is better più veloce è meglio more than one way to win c'è più di una possibilità di vincerci più di una strada take out the competition if it helps e teleporting to the starting line staremo a vedere anche qua ragazzi che cosa vorranno dire si preannuncia veramente un qualcosa di molto molto succulento e che stravolgerà parte del gameplay ci sono anche come vedete la sotto invece le scritte che verranno probabilmente annunciate alla fine e all'inizio do whatever you can to get the finish line first fai quello che ti pare per raggiungere per primo la linea del traguardo come down to the race starts free two one go quello probabilmente verrà detto quando stiamo nella linea di partenza e you have reached the finish line hai vinto sei arrivato appunto alla linea finale quello che invece ci interessa è proprio le statistiche tecniche dei veicoli noi abbiamo statistiche per quattro tipi di macchine valet è il nome appunto che viene dato all'automobile sappiamo che il full tank capacity quindi la dimensione del serbatoio delle macchine piccole e medie è di 100 mentre di quelle grandi è di 150 e del camion perché ci sarà anche la motrice di un camion è 100 perché ragazzi noi dobbiamo sapere anche il la dimensione del serbatoio perché le macchine dovranno essere rifillate no bisognerà fargli benzina ve lo faccio vedere tra due secondi anche con un bellissimo spezzone di video come vedete abbiamo anche i dati per quanto riguarda invece la salute dei veicoli no quelle piccole hanno 800 quelle medie hanno mille quelle invece grandi hanno mille e duecento quindi tanta tanta roba datemi un secondo che voglio prepararvi non ce l'avevo pronto ora ci siamo voglio farvi vedere ragazzi è una cosa davvero molto interessante fra due secondi qua qua questo logo ormai siamo abituati a vederlo è l'icona della gas station quindi di alcuni dei distributori di benzina presenti nella mappa se state guidando un veicolo tipo un elicottero e premete per aprire la minimappa vi appariranno sulla mappa tutti i loghi delle pompe di benzina ma quello che voglio farvi vedere è l'animazione che il personaggio farà per quanto riguarda il refill della benzina come vedete ragazzi lui sta ricaricando molto easy è come se avesse in mano come vedete una tanica di benzina tanica di benzina che in realtà noi conosciamo benissimo essere proprio questa l'hanno inserita addirittura nel precedente capitolo ma non era mai stata interazionabile con il personaggio sappiamo che invece potremmo raccoglierla tenerla nell'inventario e continuare ad alimentare potenzialmente infinite volte se ne abbiamo tante il nostro veicolo per spostarci nella mappa ma ecco qua invece il post incriminato non vi faccio vedere chi è l'autore ovviamente che ha spoilerato che il 16 luglio ci sarà l'evento di aquaman e di black manta mentre le auto verranno rilasciate il 21 luglio per chi ha seguito le mie live su twitch io avevo detto il 22 ci ho perso di un giorno ragazzi quindi tanta tanta roba e per terminare il discorso veicoli abbiamo dei tipi di macchine basic car, basic truck, big rig, police car, taxi cab, sports car mentre invece sappiamo che nei gas pump holes abbiamo 350 di max range, 192 di visual length e 10 di stiffness quindi ragazzi i veicoli saranno veramente una rivoluzione per quello che riguarda il nostro fortnite volevo anche parlarvi come vi avevo anticipato della galaxy skin mentre vi parlo in sottofondo vi faccio vedere ragazzi la skin direttamente in game sappiamo che ci sarà una galaxy cup che sembra essere dedicata solo ed esclusivamente ai possessori della skin galaxy classica quindi potenzialmente potrebbe essere un torneo dedicato solo ai giocatori da mobile e sarebbe il primo non sappiamo ancora la data, non sappiamo ancora le ricompense o meglio quanti potranno portarsi a casa questa skin perché la ricompensa sarà appunto la skin galaxy femmina non appena avrò delle altre informazioni le avrete anche voi e terminiamo ragazzi rapidamente ricordandovi che sta per arrivare un nuovo bundle in game ne abbiamo visti già tanti in questa season ma ne manca ancora uno è il bundle degli spettri come vedete tre skin, tre backpack, Ash, Jolly e la gente del caos ho anche uno spezzone ma non ho tempo adesso ve lo faccio vedere domani e vi ricordo invece che ci sarà anche un set dei tre picconi vendibile separatamente sempre però al prezzo dei V-Bucks mentre invece il bundle sarà acquistabile con i piccioli insomma ragazzi anche oggi tantissime news io ve le ho dette vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao